Episodio 20 di Word, oggi lavoriamo con le tabelle, le vediamo nel loro intero. Prima di fare tutto ciò vorrei fare un bel CTRL A e rimuovere tutto, così restiamo con una bella pagina e tanto che ci siamo possiamo anche rimuovere tutta la nostra intestazione, bam, facciamo così e siamo a posto. Allora, come possiamo inserire delle tabelle? Innanzitutto andiamo su inserisci, abbiamo tabella, si apre qua un insieme di opzioni. Allora cominciamo da questa. Se facciamo così, vedete che abbiamo la possibilità di selezionare dei quadratini che sarebbero le celle, quindi queste sono le righe, questa qua sono le righe e queste qua sono le colonne, va bene? Nel momento in cui andiamo a passarci sopra, vedete che automaticamente Word ci dà una privi di quello che sta per succedere. A sto giro voglio essere molto veloce, perciò ne selezioniamo solo tre e vedete che abbiamo la nostra tabella. Un altro modo per inserire una tabella, sempre da inserisci, abbiamo qua tabella, inserisci tabella, possiamo fare così e possiamo andare a specificare quante ne vogliamo. In questo caso se fossero di più, ci servissero più righe di quante ne possiamo selezionare con i quadratini o più colonne, possiamo farlo da qua, tipo 20 e 20, mi sembra che fosse superiore. Possiamo scegliere l'adattamento della tabella, quindi adatta al contenuto, adatta alla pagina, piuttosto che larghezza fissa, ok, mettiamo automatico, quindi si gestiscono automaticamente, facciamo così e andiamo a fare ok e vedete che abbiamo la nostra tabella. Andiamo a fare magari un ctrl z per non sporcare il foglio e un altro modo in cui possiamo inserire le tabelle, sempre da inserisci tabella, disegna tabella. In questo modo possiamo andare noi a disegnare una tabella, facciamo magari così, ecco qua. Andiamo a disegnare le righe, qua tracciamo, vedete che ci aiuta Word, tracciamo le nostre righe, ecco qua. Perfetto, e già così dovremmo essere un po' più precisi, a me questo tool onestamente non piace, se non per fare piccoli dettagli, però vedete che stiamo andando a disegnare la nostra tabella e siamo anche abbastanza aiutati con delle righe, perciò non dobbiamo essere giotto per disegnarlo. Quindi questo è il terzo modo in cui possiamo inserire una tabella, altrimenti lo possiamo fare da testo, qui ne abbiamo del testo prima su Word, lo trasformiamo in tabella, ma questa è una cosa che vedremo più avanti nel video. Per eliminare una tabella, molto semplice, ci basta selezionarla qua, così vedete, con questa icona che c'è qua in alto, oppure possiamo selezionarla tutta qua in basso, oppure possiamo trascinare così e facciamo cance piuttosto che backspace, non è un problema, vedete, in qualsiasi modo, altrimenti possiamo andare qua su sempre questa icona e vedete che qua compare elimina, quindi eliminiamo tabella, ci chiederà cosa vogliamo eliminare, se la riga, la cella, la colonna, noi eliminiamo la tabella, torna indietro, possiamo farlo da qua, elimina tabella, ok? Quindi vedete che possiamo eliminare la tabella da un po' di parti e un ultimo posto in cui possiamo farlo è selezionando qua, andiamo nel layout, che quindi è una tab contestuale e facciamo elimina tabella, va bene? Un altro modo in cui potremo inserire delle tabelle eventualmente è tramite inserisci tabella, abbiamo tabelle veloci che sono già preparate, quindi dei template, ecco qua ci sono già dei template nel caso dove voleste utilizzarle, oppure abbiamo la possibilità di inserirla tramite foglio di calcolo di Excel, ci apre Excel, di conseguenza noi qua possiamo andare a disegnare una tabella tipo A, B, A, no giustamente si chiama anche loro A, B, C, potremmo fare Nord, Centro e Sud, dividiamo l'Italia sub, non sub, ok? Mettiamo dei numeri a caso, tac, 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 facciamo così, così, così. Da qua nel momento in cui io esco, guardate un po', il foglio di calcolo di Excel è diventato effettivamente una tabella, l'unica cosa è che a differenza delle altre tabelle, se vedete io premo qua, ci escono due nuove tab contestuali, ovvero struttura tabella e layout, cliccando su questa qua, mentre invece qua non ce l'abbiamo, quindi per modificare questa tabella dobbiamo per forza entrare nel foglio temporaneo di Excel e andarlo a gestire da qua, eventualmente la formattazione, vediamo un po', possiamo fare così, potresti che così, sto spostando un po' di caratteri, ecco possiamo fare così, vedete insomma possiamo aggiungere un po' di cose, sicuramente abbiamo anche la formattazione condizionale e tutte le altre funzioni, e tante altre funzioni di Excel che su Word chiaramente non abbiamo, però questa diciamo che è un'ultima spiaggia nel caso stato utilizzando delle tabelle per fare calcoli particolari o altre cose, personalmente se dovete fare qualcosa di non molto complicato direi che si può evitare Excel, anche perché poi appunto dovete formattarvelo di là, un po' scomodo se la situazione non lo richiede. Allora abbiamo visto come inserire le nostre tabelle di base in 1, 2, 3, 4, 5 metodi, adesso andiamo a parlare delle tabelle, quindi cominciamo, se io premo abbiamo visto che escono due nuove tab, ovvero struttura tabella e layout, cominciamo con struttura tabella, struttura tabella possiamo andare di base a formattarla, quindi andiamo a inserire intanto delle colonne, dei dati, facciamo così, buttiamo dentro dei numeri, 76, 12, 45 e 99, va bene, poi togliamo magari il mostratutto che è fastidioso e vediamo che cosa abbiamo in struttura tabella. Innanzitutto partiamo dagli stili della tabella, come potete ben vedere abbiamo un po' di stili che possiamo utilizzare, ok, quindi vediamo un po', serve uno stile un po' più aggressivo, magari servono un po' più di celle. Ecco, così mi piace, però dobbiamo aggiungere delle celle e lo faremo a brevissimo. Quello che vedete qua, dicevo, sono appunto tutti gli stili della tabella che Word ci suggerisce, ce ne sono un po', come potete ben vedere, infatti mi sto un po' ingolosendo, se noi scorriamo sono tanti, sono parecchi, ecco qua, aprendo tutto, vi faccio rivedere qua, questa freccetta qui, se apriamo tutto abbiamo tutte le possibili modifiche di tabella che Word ci suggerisce. Cosa potremmo fare? Potremmo fare con griglia piuttosto che con elenchi, io direi che possiamo fare così con elenco. Un'altra cosa che possiamo fare noi direttamente è modificare lo sfondo di una particolare cella, se volete, piuttosto che di una riga che selezioniamo esattamente cliccando fuori sul margine, come abbiamo fatto per il testo, vedete che ho cambiato tutta la riga. Possiamo andare chiaramente a modificare i bordi di una singola cella, piuttosto che di tutta la riga, di tutta la tabella, possiamo modificarne lo spessore, il tipo di bordo, lo stile del bordo, quale bordo chiaramente vogliamo, le abbiamo già visti i bordi sopra, sotto, destra, sinistra, al centro, tra le varie celle e quant'altro. Oppure abbiamo questa formattazione bordi, quindi andando a selezionare quello che ci interessa, vediamo un po', facciamolo così bello spesso, vado su formattazione bordi, vedete cliccando su formattazione bordi mi esce questo pennello e io posso andare a tracciare il mio bordo, vedete, posso andare a tracciare i bordi e scegliere quale bordi voglio andare a disegnare. Ok, sicuramente è un po' più veloce rispetto a selezionare tutto, se vogliamo fare roba custom, tipo così, come giocare a Snake, va bene? Non possiamo fare a metà, ecco, facciamo così, ed è come giocare a Snake, molto divertente, sicuramente è veloce per formattare i bordi, scegliete qual tipo di bordo che volete e poi siete a posto. Togliamo la formattazione bordi che non ci interessa e magari facciamo un bel CTRL Z finché non torniamo alla situazione iniziale. Se guardiamo qua in basso, abbiamo un dialog che ci mostrerà esattamente tutto quello che abbiamo visto, qui, come al solito, in maniera condensata, con un po' più di opzioni, ovvero la possibilità di applicare il tutto a tutta la tabella, alla cella, al paragrafo, come al solito i dialog ci permettono di fare tutto di più rispetto a quanti comandi abbiamo qua sopra. Voglio invece farvi vedere queste checkbox, che sono opzioni di stile tabella, e vi faccio vedere come, se noi andiamo a togliere riga di intestazione, la riga di intestazione sarebbe la riga che definisce l'header, ovvero dove noi andiamo a dare i nomi ai campi. Questo è il campo A, anzi, chiamiamolo magari Milano, così almeno si capisce, Milano, Roma e Firenze. Non Firenze, dai, Firenze. Se noi andiamo a togliere l'header, che cosa andiamo a fare? Stiamo di base togliendo quelli che sono i nomi delle colonne. Da questo punto in poi, queste qua in alto non sono più i nomi delle colonne, ma sono semplicemente dei dati all'interno della tabella. Noi vogliamo la riga di intestazione, e vedete che anche gli stili qua in alto, guardate questi stili qua, vedete che se io continuo a fare Off, On, Off, On, non riconosce più l'intestazione della tabella, quindi tutto è semplicemente un insieme di dati. Vi porto poi questi stili qua in alto, vedete dove la prima colonna è colorata, la vedete? Eccola qua. Se io voglio togliere prima colonna, come potete ben vedere, non viene più conteggiata come prima colonna, e quindi questo stile non funziona più. Un'altra cosa che volevo farvi vedere, noi la teniamo chiaramente, altrimenti possiamo aggiungere la riga del totale, se la vogliamo, ovvero possiamo, guardate qua sotto, possiamo definire che l'ultima riga è la riga dei totali, al momento non ci serve perché abbiamo pochi dati, possiamo aggiungere l'ultima colonna. Voglio sempre che guardiate qua, vedete? Se noi andiamo a fare riga totale, questa diventa la riga totale. Se noi mettiamo ultima colonna, vedete che ci disegna l'ultima colonna, prima colonna, riga di intestazione. Quindi andando a ceccare e dececcare queste checkbox, andiamo a cambiare anche lo stile della tabella perché ci va a aggiungere o identificare in modo diverso alcune colonne e alcune righe. Altrimenti cosa possiamo andare a fare? Abbiamo le righe alternate evidenziate, vedete? Se io vado qua e vi metto un'altra intestazione, vedete che qua abbiamo la riga 1 che è grigia, la riga 2, non guardate questo qua sopra, voglio che guardate solo i dati, vedete che si alterna il colore, e vi faccio vedere, vedete che si alterna il colore. Nel momento in cui io tolgo riga alternate evidenziate, tutte le righe hanno lo stesso sfondo. Diciamo che per leggibilità io preferisco sempre avercele alternate. Altra cosa che potremmo avere sono le colonne alternate evidenziate, nel caso preferiste alternare le colonne, come in questo caso, piuttosto che le righe. E per quanto riguarda lo stile della tabella, direi che abbiamo visto tutto. Voglio far vedere solo come inserire i dati velocemente, ok? Io tolgo un attimo qua tutte le varie cose, come possiamo muoverci all'interno della tabella velocemente, molto facile, scriviamo quello che ci interessa, dopodiché facciamo tab, ok? Tab è il tasto sopra ctrl D3, quindi ctrl, maiusc, bloc, maiusc, e poi sopra abbiamo tab, che è esattamente quello sotto all'1 vicino a Q. Quindi se voi vi mettete qua e fate tab, vedete che posso continuare ad andare avanti nella tabella, e, come avete visto, se io continuo ad andare avanti nella tabella, con tab sto creando nuove righe, ok? Quindi facendo così sto creando nuove righe, e dopo ci arriveremo, mi metto qua, quindi faccio tab, scrivo, se voglio andare sotto, cosa posso fare? Uso le freccette, vedete, con le freccette, quelle vicino al tastierino numerico, se ce l'avete a disposizione sulla tastiera, possiamo muoverci facilmente nella tabella, vedete come io mi sposto da una parte all'altra, e scrivo tutti i dati che, che mi servono, perfetto, vedete? Tac, tac, magari prima colonna la togliamo anche, struttura tabella, prima colonna non è, interessa, mettiamo qualche altro numero, così tanto per gradire, perfetto, ho lasciato l'ultima riga, vuota, perché dopo andremo a fare una somma, comunque, questo è il modo in cui possiamo spostarci nella tabella, ricapitoliamo con tab, oppure con le freccette, che abbiamo vicino al tastierino numerico, avete visto come possiamo aggiungere delle nuove righe, ma ci sono tantissimi modi in cui possiamo aggiungere nuove righe, una cosa delle tabelle, che possono creare confusione in tante persone, è il fatto che ci sono 600 modi, e posizioni diverse da cui possiamo fare le operazioni, avete visto che possiamo inserire 600 tabelle diverse, possiamo eliminare la stessa tabella in 4-5 modi diversi, allo stesso modo possiamo aggiungere delle righe, vi ho fatto vedere come possiamo aggiungere le righe con tab, rivediamo, faccio tab e me ne crea un'altra, io torno indietro, oppure possiamo metterci qua, vedete? Sto mettendo il cursore fuori dalla riga che mi interessa, faccio invio e me ne crea un'altra, avete visto? io ero qua dopo il 43, lo vedete sono qui, prima del 786 faccio invio nuova riga, quindi questi sono sicuramente metodi veloci, un'altra cosa che potremmo fare, sempre col cursore qua, ci mettiamo dove vogliamo, tasto destro, inserisci, e possiamo fare riga sopra, vedete? È stata aggiunta un'altra riga, possiamo andare qua, e magari fare inserisci, riga sotto, vedete? Possiamo fare così, sulla falsa riga possiamo andare a inserire delle colonne, inserisci, colonna sinistra, colonna destra, e via discorrendo, lo stesso risultato lo possiamo ottenere, premendo qua, se vedete premiamo qua sulla riga fuori, andiamo a fare inserisci, inserisci sopra, per il fatto che abbiamo selezionato una riga, vedete che qua seleziono, mi seleziona tutta la riga, sa già che voglio inserire cosa? Un'altra riga, inserisci sopra, vedete? Se invece voglio inserire una colonna senza posizionarmi qua, e fare inserisci, cosa posso fare? Seleziono tutta la colonna, vado qua, scusatemi, vado qua su inserisci, a sinistra, se invece io seleziono una cella, e faccio inserisci sopra, cosa sto andando a fare? Non sto inserendo una riga, ma sto inserendo tante righe quante ne ho selezionate, quindi vi faccio vedere, tasto destro, scusatemi, premiamo ancora qua, inserisci, inserisci sopra, e vedete che abbiamo aggiunto altre righe, va bene? Se volessimo aggiungerle sotto, ci basta fare qua così, inserisci sotto, e stiamo allungando la tabella abbastanza facilmente. Ora, un'altra cosa che potremmo fare, è andare chiaramente nel menu di layout, e vedete che ci sono esattamente le stesse cose, inserisci sopra, inserisci sotto, inserisci a sinistra, piuttosto che, io mi rimetto qua, inserisci a destra, ok? Vedete come stiamo, in base a quanto abbiamo selezionato, inserisci a sinistra, va ad emulare le nuove colonne, quindi se mi rimetto qua, torno un attimo indietro, ne seleziono solo una, faccio inserisci a sinistra, è una, se ne seleziono due, facciamo così, inserisci a sinistra, ce ne darà due, quindi molto attenti a, come mettete il cursore, e soprattutto quante cose selezionate, perché in base a quante ne selezionate, se vedo qua, inserisci sotto, ce ne da due, va bene? Da per scontato che se ne selezioni due, chiaramente ne vuoi due. Un'altra cosa che possiamo fare, vedete che qua compare un più, vi faccio vedere, se voi cliccate una volta, ci darà una nuova riga, una nuova riga, una nuova riga, stessa cosa, se ci mettiamo qua, abbiamo un più per nuove colonne. Come potete vedere, i modi, per andare ad aggiungere righe, colonne ad una tabella, sono pressoché infiniti, sono tantissimi, fate come preferite, vi ho fatto vedere tutti i modi, proseguiamo, andiamo avanti, e vediamo come possiamo, divider le celle, o dividere una tabella. Allora noi siamo qua, e vogliamo che la nostra tabella, venga divisa a metà, quindi noi potremmo andare qui, selezionare questa riga, facciamo dividi tabella, e vedete che improvvisamente, la tabella viene divisa, e viene aggiunta una nuova header, quindi viene aggiunta una nuova riga, per le colonne, la chiamo header, in italiano non mi viene mai il nome, che è esattamente la riga, in cui abbiamo i nomi delle colonne, quindi per me è header, mi perdonerete. E così è come possiamo dividere una tabella, noi torniamo indietro, cosa voglio fare a questo giro, voglio dividere una cella, poniamo il caso che vogliamo, vogliamo dividere questa header, questa colonna qua di Firenze, possiamo fare così, ci mettiamo qua su Firenze, dividi celle, e possiamo dire quante ne vogliamo, in questo caso vogliamo solo due colonne, e una riga, ci mettiamo su Layout, forse è meglio prima andare su Struttura Tabella, e dividere le varie celle con dei bordi, perché sennò non si vede letteralmente niente, facciamo così, magari che si vede meglio, tac, e se io vado qua, su Layout, e faccio dividi celle, ne voglio due, perfetto, vedete che ci ha diviso la cella in due, qualora ci fosse spazio, tranquillamente possiamo andare a aggiungere anche delle nuove righe, per carità possiamo fare così, possiamo dividere in due due, perfetto, e vedete, ha aumentato automaticamente lo spazio di questa riga, per andare a creare due righe, e due colonne, una cosa che non vi ho fatto vedere, appunto, è l'aumento delle righe colonne, inteso di dimensione, quindi vedete che solo posizionandomi qua, posso aumentare e ridurre, quindi avete assolutamente controllo, direi al 100% sulla tabella, vedete che è molto semplice da gestire, torniamo magari indietro, che ho fatto veramente uno schifo, torniamo su layout, abbiamo visto tutta questa parte qua, possiamo andare a disegnare tabella, vi ricordate che l'abbiamo fatto, se volessi dividere Firenze in due qui, cosa posso fare? Posso fare così, e vedete, anzi ho sbagliato, facciamo così, tac, e vedete che abbiamo diviso, vedete che posso andare di qua, abbiamo diviso in due, ecco facciamo così, e di conseguenza abbiamo questa divisione, molto comodo, ecco in questo caso è disegnata bella, è comodo, se vogliamo dividere facilmente, una cella facciamo così, tac, tiriamo e siamo a posto, ecco io un po' impreciso da questo punto di vista, però pazienza, vi risparmio di vedere cosa fa, seleziona, perché possiamo selezionare cella, colonna, riga, vedete, in base a dove siete, cioè se mi metto qua, posso selezionare la riga, ma non è che ha particolarmente senso, è più facile fare così, quindi seleziona, lo lasciamo perdere, e proprietà al momento direi che è un po' troppo avanzato, secondo me, oddio qua c'è l'allenamento di base delle celle, può essere interessante, ma sono cose che vedremo direttamente qua, quindi lasciamo perdere questa parte, disegno l'abbiamo già vista, con la gomma possiamo andare a togliere, vi faccio vedere qua se abbiamo un bordo, con la gomma possiamo andare a togliere il bordo, ok l'avete visto, ora torniamo indietro, e direi che noi siamo a posto, possiamo procedere, e se andiamo su adatta, cosa possiamo fare, se noi adattiamo, abbiamo tre opzioni, larghezza fissa delle colonne, gliela diamo noi, ok, altrimenti possiamo usare adatta al contenuto, in questo caso vedete che il contenuto è poco, di conseguenza cosa andrà a fare, andrà ad adattarci la tabella in base al contenuto, quello che noi vogliamo generalmente, è posizionarci qua, adatta alla finestra, chiaramente sarà su tutto il foglio, noi l'abbiamo selezionata, questa opzione automatica, se vi ricordate quando abbiamo creato la tabella, perciò al momento non è un problema, possiamo selezionare l'altezza, vedete, specifica, quello che abbiamo fatto qua trascinando, lo possiamo fare anche qua, in base a cosa selezioniamo, possiamo fare così, vedete, quindi in base a quello che selezioniamo, stiamo andando a, a modificare il tutto, queste funzioni qua, di distribuisce righe, distribuisce colonne, le usate nel caso, avete magari, possiamo dire, rovinato, qua, il, le dimensioni, se per caso volete fare un ridimensionamento, e verranno distribuite in modo, uguale, di conseguenza, se io prendo tutte e tre, faccio distribuisce colonne, vedete che viene divisa in modo uguale, di conseguenza, la tabella viene divisa in tre terzi, stessa cosa magari per le righe, vi faccio vedere, tiriamo su questa, e se io le prendo tutte, ups, se io le seleziono tutte fino qua, vado su layout, distribuisce righe, e vedete che, va a prendere quella che era l'altezza della colonna, della tabella che avevamo prima, vi faccio rivedere, noi avevamo questa altezza, noi avevamo questa altezza, poi ho generato una nuova altezza della colonna, va bene, l'ho detto distribuisce righe, lui cosa fa, va a prendere questa nuova altezza, e va a distribuire le righe, quindi se fate caso, tutte le nuove righe, assumeranno una nuova dimensione, tranne questa che verrà ridotta, quindi queste verranno aumentate, e questa verrà ridotta, per prendere in toto, il nuovo spazio in modo uguale, ok, dovrei aver reso il concetto, andiamo avanti sull'allineamento, che cosa possiamo fare sull'allineamento, beh, se noi prendiamo qua queste, una di queste righe, possiamo andare a selezionare l'allineamento in alto, quindi questo qua è in alto a sinistra, vedete, in alto al centro, in alto a destra, al centro a sinistra, vedete come è cambiato leggermente, qua è proprio in alto, qua invece è al centro, quindi al centro al centro, al centro a destra, basso sinistra, basso centro, e basso a destra, quindi avete tutte le opzioni che, che vi possono servire, torniamo magari con centro, no anzi facciamo sinistra, sinistra a alto, possiamo andare a cambiare, l'allineamento del testo, vi faccio vedere, allineamento del testo, se avete necessità, di avere il testo allineato, in verticale, non è una mia necessità, perciò torniamo indietro, dopodiché possiamo andare a sistemare, i margini della cella, vedete li possiamo sistemare da qua, margine superiore, proviamo a fare così, ok, vedete come possiamo andare, a sistemare anche i margini, i margini sono quello spazio, in cui noi non andiamo a scrivere, quindi è semplicemente, spazio bianco extra, esattamente come il nostro foglio, quindi è uno spazio bianco che abbiamo, ma che non andremo mai ad intaccare, una cosa che possiamo andare a fare, è aggiungere delle formule, quindi se io vado qua, voglio tornare su struttura tabella, aggiungere una riga totale, vedete che questa diventa riga totale, vi faccio vedere che è stata aggiunta, la doppia, il doppio bordo, ecco qua lo vedete, quindi di conseguenza, questa viene identificata come riga totale, e vedete che cambia anche, scusatemi, cambia anche la formattazione, vedete questa, come riga totale, cosa posso andare a fare, posso andare a aggiungere delle formule, vado qua, voglio aggiungere una somma, quindi uguale sum above, che vuol dire, mi sommi tutto il contenuto sopra, altrimenti c'è below, left and right, come parole chiave che possiamo utilizzare, abbiamo diverse funzioni, vedete, abbiamo absolute, e, abbiamo average che è la media, abbiamo il conteggio, abbiamo if, int, insomma abbiamo un po' di robe, se non arrivate magari dalla programmazione, alcune di queste cose potrebbero non sembrare, o da excel non arrivate, potrebbero sembrarvi arabo, ma non preoccupatevi, perché poi arriveremo anche a quelle, in questo caso io voglio fare solo una somma, di tutto ciò che c'è sopra, e vedete che tutto ciò, sommato, cosa ci dà? 299, quindi molto semplicemente, anziché utilizzare excel, per fare due conti molto velocemente, abbiamo buttato dentro, letteralmente una formula, e se io voglio fare l'average, quindi qual è la media, qual è la media, ups, facciamo uguale, tac, tac, average, e ci buttiamo dentro above, tutto sopra, ok, e la media, quindi ha preso tutto il risultato, l'ha diviso per il numero di righe, è 1.467, chiaramente è stata rovinata da questo 8.655, noi cambiamo, vedete che non ce l'ha aggiornato, quindi dobbiamo aggiornare il tutto, per aggiornare il tutto, torniamo sulla formula, rifacciamo ok, e vedete che ce l'ha aggiornata, senza alcun tipo di problema, quindi ecco come possiamo aggiungere le formule, e soprattutto a cosa serviva la questione della riga totale, non abbiamo ancora finito, perché vi faccio vedere come possiamo convertire una tabella in testo e viceversa, noi siamo qua, abbiamo la nostra tabella, vogliamo che sia semplicemente del testo, perciò noi andiamo qua e facciamo converti in testo, e decidiamo che la formattazione sarà con tabulazioni, quindi tabulazioni, se io vado qua vi faccio vedere, vedete che abbiamo i tab, altrimenti cosa potremmo fare, layout, converti in testo, possiamo fare punte virgole, va bene, facciamo punte virgole, e vedete che tutti i dati, comprese, compresa l'header, vengono divise, vengono separati, semplicemente da un punte virgole, in questo caso, a me va bene tornare, qua su converti testo, tabulazioni, perfetto, tolgo magari il pilcro, al contrario, possiamo prendere tutta questa, tutto questo blocco di testo, andare qua, inserisci, tabella, converti il testo in tabella, perciò io arrivo qua, faccio converti testo in tabella, e capisce che le colonne sono tre, è assolutamente vero, le righe sono otto, un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, assolutamente vero, la riga, la larghezza la mettiamo auto, come abbiamo sempre fatto, e vuole capire Word, qual è il separatore, che identifica diverse colonne, diverse righe, in questo caso sono tabulazioni, se vi ricordate, perché è vero, perfetto, quindi andiamo qua, ok, e ci ha ricreato la nostra tabella, chiaramente abbiamo perso la formattazione, ma come abbiamo visto, è un gioco da ragazzi, rifarlo, quindi, direi che per oggi, è veramente tutto, spero si sia capito, ho, quasi mezz'ora di video, se non mezz'ora di video, fatemi sapere, se come lezione è stata apprezzata, noi ci vediamo nel prossimo video, dove parleremo di, sommario, o indice, sulla stessa cosa, bibliografia, fonti e citazioni, perché spesso, se scrivete dei documenti, avete magari qualcosa, che dovete citare, o soprattutto, magari mettere un indice, per chi deve leggerlo, quindi vi ringrazio, per essere rimasti commesso, sotto in descrizione, trovate tutto ciò che serve, per sostenere il canale, se ci tenete particolarmente, unirvi alla community, che adesso è, sia Telegram, che Discord, un abbraccio, e alla prossima, ciao ciao! Ciao!